E bentrovati a tutti, tutti, tutte, tutte sul mio canale, sono sempre Elena, di Elena Pione Healthy Life Coach, la vostra MindBody Mindset Manifestation Coach e trainer prediletta ora, qui ci occupiamo di dissolvere il dolore fisico, emotivo, mentale e spirituale, aiutarti a creare la vita che vuoi, a vivere i tuoi sogni. Avviso, il tuo sogno ti sta venendo incontro, sta già venendo verso di te, sei pronto e pronta e pronta ad accoglierlo? Allora, volevo ringraziare lo scambio di commenti che c'è stato ieri sera fino a tardi, sono rimasta a leggere tutta la fiumana, la pletora di commenti che sono arrivati da una ragazza fantastica che in questo momento ha manifestato una 3D un po' così, diciamo così, e i commenti che sto andando effettivamente a prendere qui sotto. Sono sotto al video uscito ieri, è esausta, sei una persona esausta, di manifestare la tua PS, quindi se ti sentiste anche dorita eccetera eccetera, cara anima speciale, ti raccomando di andare a quel video che ti linkerò nelle schede qui sopra e nella schermata. Valentina Corti, dato che dici affermi esattamente tutto il contrario che va contro il tuo desiderio e ci possono essere delle cose che si manifestano pazzesche, situazioni impossibili o manifestate impossibili, quindi vi ti vi rimando ai miei commenti sotto a quel video. ma ho deciso una cosa importante, su questo canale io non vado mai a parlare di cose che sono contrarie al tuo desiderio e capisco che non tutte le persone sono allo stesso livello di comprensione, pertanto ho deciso di creare una nuovissima masterclass dedicata, indovina, indovina, indovina che cosa? Alle tre P e dico al plurale perché tre P significa tutto quello che è contro la manifestazione del tuo desiderio, quindi non per forza un'altra persona o un harem, diciamo l'harem, i festini di altre persone, no. Una masterclass tutta dedicata a questo, solo e soltanto, quindi queste sono cose che non trovi nei corsi manifestazione per la persona specifica, perché in tutto quello che faccio ci focalizziamo sul risultato già raggiunto, quindi non parliamo degli ostacoli come magari troverai altrove. Questo sarà dedicato solo e soltanto per quelle persone che si ritrovano in questa situazione, fanno fatica in questa situazione, si sono manifestate delle situazioni particolari e anche per quelle persone che si intrippano con la manifestazione stessa dove magari la situazione iniziale era praticamente perfetta, ok? È in fase di lavorazione ma ho voluto annunciarla oggi qui, nell'intro di questo video. Pertanto voglio mettere ben chiaro questo, per salvaguardare tutti, rendere la manifestazione su questo canale meravigliosa, piacevole, fantabombastica e tutte le persone che lavorano con me ottengono i loro risultati, perché assumo che sia così e nella mia realtà vedrò questo. E ogni volta che ci sarà un commento che chiede, ma se c'è una 3P che mi infastidisce, se c'è un 3P che mi dà fastidio, se c'è un RM di 3P, un esercito di persone che vuole la mia PS o che sta cercando di manifestare la mia PS, oh mio Dio, che cosa faccio? Ho appena scoperto, ho appena creato, ho appena scelto in una timeline dove, oh mio Dio, la mia PS era già sposata da una vita con 30 figli, oh mio Dio, oh mio Dio, di qua di là, ma adesso è successo che per l'ennesimo anno vai in vacanza da sola, per i cavoli suoi, ma è malla qua, eccetera, tutte queste sicuro trovarle qui, perché sei saturata in quelle, pertanto stai comandando che è così, quindi mi rivolgo questo preambolo, questo entro solo a queste persone, in modo che ogni volta che dovesse fare il pop-up a un commento del genere in futuro, io immediatamente rimanderò alla mia masterclass in elaborazione, tutta dedicata a come dissolvere le 3P per sempre e quali sono le vere 3P, le 3P del tuo successo, pazienza, perseveranza e positività. Ok, fatto questo spoiler, questa intro, questa anticipazione, come cambiare efficacemente e facilmente la tua persona specifica per sempre? sia che tu sia già nella relazione con la tua persona che no, o qualsiasi sia la tua situazione attuale adesso. Quindi prima di ovviamente addentrarmi nel vivo di questo video, ti raccomando se ancora non l'hai fatto e soprattutto se vuoi ricevere le mie risposte e tutto, iscriviti a questo fantabombastico canale, ci sono infatti dei vantaggi riservati soltanto agli iscritti, come per esempio la risposta nelle chat live quando vai ad un'anteprima, sconti e promo sui corsi e le sessioni, molto altro ancora, il 5%, e sicuramente oltre a fare subscribe to this channel, give it a thumb up, smash that like button, insomma, metti mi piace e attivati la campanellina delle notifiche, perché io qui ci vado giù parecchio, no non voglio dire dura, ma qual è un aggettivo in italiano che può descrivere come sono estremamente determinata a darti la verità e aiutarti a manifestare davvero la vita che vuoi, perché voglio che tu vinca, il tuo successo è il mio successo e non tiro dietro niente di come funziona nei miei video e appositamente non parlo degli ostacoli, perché più parli di una cosa più la manifesti, è molto semplice, anche in tanti altri canali lo fanno, per fare clickbait, visualizzazioni, infatti sono quelli che vengono visti di più. I don't do this, I don't do these things, io non faccio queste cose, non mi interessano, non fanno parte del mio sistema di credenze, della mia realtà, anche perché in passato peraltro quando io non conoscevo la manifestazione e mi piaceva qualcuno, volevo qualcosa, io l'ottenevo sempre, qualsiasi fossero le condizioni e le situazioni, è pazzesco e ora siccome c'è la manifestazione dovrebbe essere ancora meglio. ok, quindi un'altra cosa che voglio menzionare, ci sono ancora credo tre posti al 50% di sconto per la mia masterclass incantesimo, ma solo e soltanto se contatti il mio staff per avere l'accesso alla pagina con la scontistica, oppure se ti iscrivi alla mia newsletter gratuita che dà la vita che vuoi, il link lo trovi nel box in descrizione del video e anche nella home di questo canale e se invece hai bisogno di lavorare one, one with me, cioè sessioni di coaching professionale privato con me, sono coach professionista pluricertificata da 2012, non una persona improvvisata che si autodefinisce coach e poi non ai titoli, come succede altrove, trovi sempre il link per prenotare il giorno e l'orario sulla mia agenda online, qui sotto sempre nel box info del video. Devi cliccare sulla scritta altro, ci sono sessioni di vario ordine e natura, ovviamente selezionerai lo assunti e puoi prenotare anche delle sessioni semplicemente telefoniche, telefono tradizionale, come dico in tutti i video praticamente, quindi siccome c'era un'altra persona ieri che mi diceva, ma io come faccio a parlare con te tutto? Per lavorare primatamente in ambito professionale in un setting professionale di coaching con me, devi prenotare la tua sessione sulla mia agenda online, controlla la disponibilità anche perché adesso è estate e sarò meno disponibile, of course, ovviamente perché anch'io voglio finalmente prendermi una vacanza, ok? Torniamo al nostro video. Come fai a cambiare la tua persona specifica? In realtà non puoi cambiare le persone, puoi cambiare solo te stesso. Quindi per cambiare la tua persona specifica e manifestare la versione della tua persona che vuoi, prima di tutto voglio ribadire che puoi manifestare assolutamente chiunque e qualsiasi cosa vuoi e per quanto riguarda una persona specifica, qualsiasi persona specifica, vecchia, nuova, conosciuta, non conosciuta, non stai cambiando la persona, la versione preferita della tua persona è stata già creata, esiste già e tutto ciò che hai bisogno di fare è sintonizzarti su quella versione. Questo significa che se sei singola adesso ma vuoi l'impegno da una persona specifica o da quella persona specifica o vuoi tornare con quella persona specifica e fino adesso ti sei detta che è uno che prende in giro la gente, è una persona, è una giocatrice, è una cercatrice, è una dominatrice, è un dominatore o è narcisista covert o no, l'impegno no, non sono pronto pronta per questo e poi magari va altrove o ti ha detto che ti odia, che non vuole vederti più o è completamente freddo e indifferente. Tutta questa bella robetta qui va, oh wow, qui dentro, into the trash, tutta quella roba lì che fa schifo va nel cestino della spazzatura, gone, smetti di ripetere quelle balle lì. Quindi cerco di mantenere questa community il più pulita possibile, ok? Quindi puoi manifestare di andare a convivere con la tua persona, puoi manifestare di andare a essere sposata con figli con la tua persona, puoi manifestare qualsiasi cosa vuoi semplicemente con i tuoi pensieri perché i tuoi pensieri selezionano la variante di realtà che esiste già in cui quella realtà è vera, in linea con quello che vuoi. Quindi prima di tutto devi sapere quello che vuoi e devi essere anche pronto per riceverlo, ok? Un'altra cosa, siccome molte persone mi hanno chiesto ma la mia persona è depressa o è povera, fa fatica finanziariamente o c'è questo, c'è quello, c'è quell'altro, stop it! Anche queste frasi, anche quelle affermazioni vanno qui dentro, into the trash, non esiste più. Se vuoi puoi usare anche l'altra mia metafora del BC e tiri la catena, via, via, ok? Gone. Puoi manifestare che la tua persona è ricca, che ha un business fiorente, finanziariamente stabile, che è felice e sana, atletico, atletica, con tutte le caratteristiche che vuoi, tutto quello che desideri. Puoi farti uno schema sul tuo benedetto diario di manifestazione, agenda o semplice quaderno o pezzo di carta, banalissimo, e scrivere tutte le caratteristiche le qualità che vuoi in questa persona. Tutto quello che hai bisogno di fare è manifestare quelle qualità, quella versione, semplicemente pensando, pensando a te stesso e te stessa come la versione di te che vive già questa realtà, questo è pensare dal desiderio, solo con i tuoi pensieri, solo cambiando il modo di pensare. That's all, è tutto quello che hai bisogno di fare. Ora, tutte le volte che pensi un pensiero stai affermando, tutte le volte che sei focalizzata su qualcosa, appare. Tutte le volte che nomini qualcosa, lo vedi. Tutte le volte che scrivi un commento che non è in linea con i tuoi desideri, ti remi contro, lo manifesti. Ha senso? Ti torna più chiaro? Vuoi che lo ripeto all'infinito? Quindi, che succede? Che in media un essere umano pensa, a seconda delle varie ricerche che sono state fatte dai 60 agli 80 mila pensieri ogni 24 ore, la maggior parte dei quali sono sempre gli stessi, pertanto la propria realtà rimane più o meno sempre fissa alla stessa. Quindi la mia domanda è che cosa stai pensando? Che cosa stai dicendo? Che cosa stai affermando? Che cosa stai scrivendo nei commenti? La realtà 3D non esiste, non è reale, la tua immaginazione lo è e causa la proiezione di quello che stai pensando. Chi arriva alla manifestazione, alla legge di assunzione, deve sapere che è così e non può tutte le volte dire ma sta succedendo questo, in realtà 3D ho scoperto questo, eccetera, eccetera. Non può più fare discorsi di questo tipo, ma mi rendo conto che magari ci sono persone nuove che arrivano di fronte a tutto questo e non lo sanno come è stato per me, no? Per me è stato uno shock 4 anni fa scoprire tutto questo. Già io vedevo che avevo un'influenza sulle cose, sugli eventi, ma non a questo livello. Una persona che mi ama, che mi adora, che è tutto, basta che io cambio pensieri e cambia aversione. Questo mi ha veramente, ha messo in questione tutto quello che credevo della realtà, ok? Quando una storia diventa dominante in te, cioè prendi una decisione, decidi come stanno le cose e continui a mantenere questa decisione attraverso i tuoi pensieri, oppure non ci pensi più e poi accade. Cosa più sfidante e complessa quando manifesti una persona specifica, quando manifesti amore, di questo ne ho parlato nella mia masterclass Dominatrix, che puoi assolutamente prenderti. Anche questa la trovi qui sotto, linkata nella box info del video e degli altri video, della stragrande maggioranza dei video da quando l'ho creata. Quando la tua routine, o meglio, il rituale intenzionale ad alto impatto di manifestazione è sul pezzo, quando manifesti amore, deve accadere, è inevitabile. Quindi quando tu manifesti una persona specifica è diverso che manifestare una somma di denaro, un caffè gratis al bar, eccetera, perché sono implicate tutte le assunzioni, tutte le esperienze che hai in memoria relativamente all'amore, alla sicurezza, al fidarsi di un'altra persona, eccetera, eccetera, perché con una persona ci si scambia veramente, si va a livello d'animo, ok? Poi c'è l'aspetto sessuale, l'aspetto territoriale, ci sono tanti aspetti e tante componenti che negli altri tipi di manifestazioni non ci sono. Quindi o ti saturi continuamente nella nuova storia e o trovi un metodo per, ok, ho deciso che questo è staccare completamente il focus perché sai che si manifesterà. Queste sono le due vie. Naturalmente, come ripeto sempre, quando manifestiamo appunto una relazione è diverso che manifestare, oh mio Dio, ho vinto la lotteria, ma veramente è completamente diverso, giusto? Ok, quindi devi cambiare il modo in cui stai pensando. Se tu pensi alla situazione, la tua persona in maniera ossessiva, devi mettere in loop pensieri ossessivi della realtà desiderata. E' tutto quello che hai bisogno di fare. Ora, un chiarimento. Assunti, affermazioni vanno su quattro diversi aspetti, a mio parere. Assunti in generale su di te, come vedi te stessa, quindi self-concept on self, su di te in generale nella vita. Due, assunti in generale su di te in relazione alle relazioni d'amore romantiche in generale nella vita. Tre, assunti sulla tua relazione con la tua persona specifica, self-concept corretto su cui hai bisogno di focalizzarti. Quattro, assunti sulla tua persona, quindi self-concept o specific person concepts, cioè decisioni su come si comporta, chi è, com'è il suo carattere, quello che fa con te, come si comporta in generale nella vita e come si comporta nello specifico con te. Quindi il self-concept sulla persona specifica ha due componenti, com'è la persona in generale nella sua vita e com'è nei tuoi confronti. Quindi riascolta questa parte del video, se hai bisogno, metti in pausa, prendi appunti, devi lavorare su tutti questi quattro più uno aspetti. Perché se tu dici che sei una dea, che tutti stanno ai tuoi piedi e comodi tuoi, tranne che la tua persona specifica, che è uno stronzo e che si comporta sempre male con te, non gliene frega niente. Come la manifesti la tua persona? Per questo le psico-retroballe che dicono, oh, self-concept, sono self, sono una dea, sono fantabombastica, sono boiate, sono un psico-retroballe. È così self-evidente, è così evidente. Tu potresti avere anche una shitty self-concept on self, cioè non considerarti strogranché, ma comunque pensare a decidere che la tua persona ti odora esattamente così come sei, è pazzo di te. Ti torna senso, è più chiaro. Quindi se proprio vuoi concentrarti, sicuramente è un'ottima cosa se decidi di abbonarti a meno di 4 euro al mese qui col tastino abbonati al canale, perché puoi partecipare oltre che alla sfida dei 25 giorni per manifestare la tua persona specifica, puoi partecipare anche la mia masterclass divina, 28 giorni di amore incondizionato, perché questo ti nutre dall'interno a prescindere da tutto e ti fa riscoprire il tuo God self, la tua divinità interiore. Che Dio ha bisogno di validazioni, ha bisogno di dirsi che si merita le sue proprie creazioni? Ovviamente no. è sicuramente un ottimo lavoro per nutrire la tua anima che è persa ancora nella separazione e nell'illusione. E per calmare il tuo sistema nervoso della scoperta enorme di tutto questo è due. E hai bisogno di sviluppare un self concept sulla relazione e definire, scolpire il carattere di com'è questa persona in generale e con te, con te, verso di te. Come si comporta con te? Che cosa fa per te? Quali sono le qualità che ti hanno fatto battere il cuore e brillare gli occhi la prima volta? Come magari ti ha fatto un qualcosa che ha cessato un qualcosa o in generale o uno è lo specifico con te o entrambe le cose che ti ha fatto dire, oh mio Dio, questa è la persona che voglio, se no perché saresti qui. Se stai manifestando questa persona è per questo e o comunque c'è un qualcosa per cui vuoi vivere determinate cose con questa persona. Ovviamente se sei saturata nel negativo stai selezionando il negativo. È così semplice. Hai i tuoi motivi per manifestare questa persona, sono i tuoi e nessuno può metterli in questione e ti devi focalizzare su quello. Quindi non puoi raccontarti, oh mio Dio, è un perfetto idiota, è un narcisista, è quello e quell'altro, è un borderline perché adesso non va più di moda, secondo di quello che va di moda queste frasi fanno proprio, no, questa persona mi adora, questa persona vuole stare con me, questa persona è affezionata a me soltanto a me, fa di tutto per farmi felice, è così bello vivermi questa nuova relazione, questa ritrovata relazione con questa persona, siamo così bene di nuovo insieme, ce lo dicono tutti e le peculiarità del fatto di questa specifica relazione, tu e la tua persona, tu e soltanto tu e la tua persona, l'unicità di questo legame. Sicuramente se tu hai storie che sei una persona che viene sempre messa al primo posto, che ha priorità, che è sempre scelta, che è amabile, che ha tutto il valore dell'universo, è tutto il bene dell'universo, ma se poi contemporaneamente ti dici solo che questa persona qui però invece con me, boh, devi cambiare quel pensiero che hai rispetto a come si comporta, perché tu decidi come si comporta, quello che prova per te, quello che pensa, di cui poi riguardi, eccetera eccetera. Quali sono le storie a proposito della tua persona specifica? Hai degli assunti, delle assunzioni, delle idee positive, delle storie positive o no sulla tua persona specifica? Perché se sono negative, te lo dico subito, devi cambiarle nell'esatto opposto. Devono essere storie fisse, impresse, che dicono qualcosa tipo la mia persona specifica mi ama, la mia persona specifica mi adora, non ne ha mai abbastanza di me, io e la mia persona siamo in una relazione sana, armoniosa, felice, io e la mia persona conviviamo felicemente, sono l'amore della sua vita, la mia persona specifica è felice e grata di avermi accanto perché l'ho reso una persona migliore e gli ho migliorato la vita, eccetera eccetera eccetera. Qualsiasi cosa di negativo, qualsiasi pensiero o no che hai, lo devi eliminare e trasformare nell'esatto opposto, altrimenti non la manifesterai mai. Te lo dico, sono brutalmente onesta e sincera come al solito. Quindi, afferma cose che implichino che tu e la tua persona state insieme e siete felici insieme, qualsiasi cosa sia. Quindi, di nuovo, questo perché è importante affermare sia per te stessa, sia per la tua persona, sia per la tua persona in relazione a te, sia per le relazioni che avete insieme. Ovviamente vuoi riconoscere il tuo valore e vuoi sentirti bene con te stessa. E una persona che si sente bene con se stessa fa affermazioni che ciurlano nel manico dello schifo, secondo te? Rispondimi a questa domanda nei commenti. Una persona che si vuole bene ciurla nel manico del negativo con pensieri che la fanno sentire malissimo? Una persona che si vuole bene fa pensieri che la fanno star male? No. Una persona che si vuole bene fa pensieri nutrienti che la sostengono e la fanno sentire fantabombastica. Sono la dea della mia realtà. Ho pensieri da dea che mi fanno sentire come una dea tutto il tempo. Perché sono così? Punto. Non ho tempo di pensare porcherie. Le porcherie le lascio eventualmente agli altri. Eh, chi se ne frega. Questo deve essere il tuo mindset. Punto. Quindi di nuovo, se hai bisogno di più guida e più approfondimento, sicuramente puoi seguire Divina, la mia masterclass, in 28 giorni per nutrire il tuo sé divino, per nutrire la tua anima. 28 giorni di amore incondizionato verso te stessa. Il modo per farlo è cliccare il bottoncino abbonati qui sotto e avrai accesso alla sezione membri di YouTube, gestita interamente da YouTube. Quindi non mi chiedere, ma come qua e là? Perché lo gestisci a YouTube e non io, nel mio staff. E comincerai un percorso che è composto di video lezioni con esercizi specifici. Potrai scaricare anche il diario di Divina, dove potrai fare gli esercizi per iscritto se vuoi fare di lì. Puoi manifestare chiunque o qualsiasi cosa semplicemente affermando che è tuo, affermando che la tua persona ti adora, ha tutte le qualità che hai sempre desiderato. Un'altra cosa, l'ultima cosa, ma non meno importante, è estremamente importante evitare la metatrapola della manifestazione. Alcune persone si sono intrippate con la manifestazione. Manifestano sempre la propria persona e le cose, poi si dicono, oh, ma è solo una manifestazione, un'illusione, quindi ora sparirà. Questa è quella che io chiamo la metatrapola della manifestazione. Se vuoi uscire da questa metatrapola, il modo per uscirne, ne parlo in Cantesimo, la mia masterclass per manifestare la migliore relazione con la tua persona specifica. In 31 giorni di full immersion ci sono più di 50 video lezioni, uno spazio a forum box dove puoi interagire con me, con gli altri studenti, il manuale, il workbook, e le live che avremo, una già registrata, già pronta, disponibile, quattro moduli, un bonus con le quattro fasi della manifestazione della persona specifica. Potrai trovare la tua manifestation buddy, lavorare con la tua manifestation buddy, per scoprire cos'è, dai un'occhiata qui sotto, all'inqui sotto, perché ti spiega tutto, nella pagina di Cantesimo, sul mio blog, sul mio sito, e affermati per un self-concept che dice sono un master manifesto, lo tengo sempre quello che voglio, lo mantengo, manifesto sempre il meglio della mia persona specifica, la mantengo. Quindi non è, oh, mi hai mandato 30.000 messaggi, ma siccome c'è la manifestazione, ora risparisce di nuovo quando è già settato. Questo è lo step veramente definitivo, quando arrivi a questo livello. Hai bisogno di superare questo impasse. Se è questo anche il tuo caso, è un caso che accade ad alcune persone. Da quello che ho visto, quello che è successo a me, come al solito, ovviamente, si riflette fuori, quindi l'ho visto che è accaduto anche a altre persone, ok? Quindi quando ti viene in mente, sia che tu ci viva insieme, sia che tu ci sia sposata con figli, sia che tu lo stia manifestando da zero, la stia manifestando da zero, è un master manifesto. Sono un master manifesto. Usa, se non ti piace questa formula, non è che per forza devi ripetere a papà, dallo quello che dico io. Ovvio, hai una tua autorità, quindi tu decidi qual è la formula che funziona per te. Anche nulla, anche semplicemente decidere. Oh, le cose che voglio mi arrivano, me le tengo. Easy. E dirti no. Una volta che la manifesto, la mia persona la mantengo, resta con me. Questa volta è per sempre. E sono in bello, altro spoiler, molte altre cosette. io ho tutto il mio tempo veramente pieno, pieno, pieno per realizzare meglio, ma non solo questo. Come sai, mi occupo anche di volodinia. Sto scrivendo un libro, anticipazione, uno di tanti che sto scrivendo. Sto facendo moltissime, moltissime cose e sono pienissima. Quindi, di nuovo, se vuoi prenotare la tua serie di sessioni coaching, o anche una sola sessione conoscitiva, o un colloquio giusto per fare il punto della situazione, affrettati, controlla, fai un check. Invece che alle 3D e raccontarti palle, fai un check sulla mia agenda, verifica la disponibilità e servizi offerti. Lo sconto del 5% per gli iscritti lo trovi sempre qui sotto e prenota, insomma, il tuo percorso se hai bisogno di più aiuto. And that's all for me for the day. Ma prima di salutarci, davvero, 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 fai un check. Se hai veramente difficoltà, è già tutto stato creato per te, fai un check qui, su questo link qui, che ti appare qui, c'è una frecciolina, clicca qui dentro e dà un'occhiata a questo corso qui, se vuoi seriamente manifestare la tua persona, qualsiasi sia la situazione ora. Io ti rivedrò alla prossima puntata. Ciao ciao!